Organizzare la gestione dei rifiuti agricoli secondo i principi di responsabilizzazione e cooperazione favorendo il recupero, il riciclaggio e il corretto smaltimento dei materiali di scarto provenienti dalle attività imprenditoriali agricole. È l'obiettivo dell'accordo che l'esecutivo regionale ha voluto rinnovare e aggiornare. Si chiama Impresa Agricola Pulita. È un patto tra Regione Abruzzo, Anci, consorsi intercomunali rifiuti, gestori della raccolta e le organizzazioni di categoria. Le imprese agricole che aderiranno all'accordo avranno la garanzia di gestire in maniera corretta i propri rifiuti con costi contenuti e contribuiranno ad una migliore protezione dell'ambiente, delle culture e della salute umana. Il vicepresidente della Giunta e assessore regionale all'agricoltura, Emanuele Imprudente. È un accordo che semplifica e dà la possibilità agli agricoltori di poter fruire di un servizio importante che è quello della raccolta di rifiuti anche gombranti, di rifiuti derivati dall'agricoltura. Questa è un'azione importante soprattutto per la tutela dell'ambiente, per evitare abbandoni, per far sì che possa essere gestita al meglio l'agricoltura nel rispetto dell'ambiente. Una semplificazione amministrativa importante proprio per cercare di facilitare la vita, almeno sotto l'aspetto amministrativo per i nostri agricoltori. Con questo accordo si rafforza il rapporto tra ambiente e agricoltura, anche nell'ottica della transizione ecologica e quindi per centrare quegli obiettivi nobili che l'Europa chiede entro il 2030 sulla riduzione delle emissioni CO2. L'assessore regionale ai rifiuti Nicola Campitelli. Vogliamo con questo accordo innanzitutto favorire una corretta gestione dei rifiuti agricoli, evitando l'abbandono sui terreni agricoli e quindi favorendo il riuso e il riciclaggio, quindi una gestione corretta dei rifiuti agricoli e soprattutto una semplificazione a favore di chi ha un'impresa agricola.